Buongiorno, vi ritrovate a un nuovo appuntamento con l'informazione su Telefiuli e risultato positivo al coronavirus. Il consigliere regionale Igor Gabrovec stop ai lavori dell'aula e sottoposti a quarantena precauzionale. Dieci colleghi che dovranno restare in isolamento a casa. I lavori per approvare sviluppo impresa sono stati rinviati a data da destinarsi. Lavori sospesi e dieci consiglieri regionali in quarantena. Il coronavirus è arrivato fisicamente nell'aula di piazza Oberdan. Ieri sera Igor Gabrovec della Slovesca Skupnos è risultato infatti positivo al test e via precauzionale. I lavori sono stati rinviati a data da destinarsi su scelta del presidente del consiglio Piero Mauro Zanin in accordo con il vicepresidente della giunta e assessore alla salute Riccardo Riccardi. Il consiglio avrebbe dovuto proseguire oggi e domani nella discussione sul disegno di legge sviluppo impresa all'interno della quale vi erano anche i primissimi provvedimenti per aiutare le aziende in questa fase molto complessa. Gabrovec contattato e ancora ricoverato nel reparto infettivi dell'ospedale di Cattinara in buone condizioni di salute e sta svolgendo tutti gli esami del caso. In via precauzionale sono stati messi in quarantena nelle loro abitazioni i consiglieri che siedono vicini a Gabrovec, quindi per il Partito Democratico Francesco Russo, Diego Moretti, Franco Jacop e il capogruppo Sergio Bolzonello, Stefano Mazzolini, Antonio Lipolis e Giuseppe Gersinic della Lega, Massimo Morettuzzo e Giampaolo Bidoli di patto per l'autonomia. L'edificio di piazza Oberland è stato chiuso, nessun cartello all'esterno, il personale della sicurezza però impedisce con cortesia e professionalità l'accesso ai piani che dovranno essere sottoposti a un trattamento igienizzante. Ora bisognerà capire come evolverà la situazione visto che la quarantena dei consiglieri impone uno stop ai lavori che potrebbe però essere superato da un accordo politico per arrivare a un provvedimento comunque successivo a quello del governo nazionale per aiutare le imprese ad affrontare l'emergenza coronavirus. Da noi contattato al telefono il consigliere regionale Gabrovec fa sapere che sta bene, riferisce che è sottoposto a tutte le analisi del caso e che rilascerà altre dichiarazioni a conclusione dell'isolamento. Ancora notizie sul fronte al coronavirus in Friuli Venezia Giulia a fornirle nella prima serata di ieri il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna nella massima trasparenza della comunicazione al cittadino. Al momento la situazione a Gorizia è stabile, dice il primo cittadino, aumentano invece come l'atteso e prevedibile le persone soggette a quarantena o in isolamento volontario. Per quanto riguarda quest'ultimo si comunica che in questa fascia ci sono anche quattro dipendenti comunali che in ogni caso non registrano col sintomo e che solo precauzionalmente si stanno sottoponendo all'isolamento e sono comunque seguiti dai servizi sanitari. Versa in gravissime condizioni una donna di 49 anni è rimasta ustionata a seguito di un incendio che si è sviluppato questa mattina intorno alle 10 nel suo appartamento di una palazzina Ater in via della Valle a Udine. Le fiamme sono divampate, una delle stanze l'hanno avvolta provocandole gravi ustioni su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili fuoco del comando di Udine che hanno evacuato un intero stabile composto da nove appartamenti e disposti su tre piani. In ospedale anche altri due condomini precauzionalmente per indistocazione da fumo. A reato lo stabile le famiglie sono state fatte rientrare. Tutti gli alloggi sono agibili compreso quello della donna dove si è sviluppato l'incendio. Incidente questa mattina sulla 28 a causa del ribaltamento di un bilico sul manto stradale il camion trasportava sacchi di concime, materiale che a sua volta si è rovesciato invadendo le due corsie della careggiata. A sinistro si è verificato alle 7.30 in direzione Portoguaro e a costretto la chiusura dello svincolo, l'entrata a Fontana Fredda e del tratto tra Fontana Fredda e Porcia. Notevole riprecursioni sul traffico e come sempre nel primore della giornata è molto intenso. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale, personale di autovie i 115 e i 118, i soccorsi meccanici e sempre sulla A28. Nella notte si è verificato un violentissimo tamponamento poco prima dell'uscita di Porcia in direzione Conegliano. Per causa in corso di accertamento due automobili di grossa cilindrata, una Mercedes e una BMW sono scontrate poco prima della mezzanotte tra le persone trasportate in ospedale, per fortuna con lesioni lievi. I carabinieri di Pordenone attraverso mirati controlli sulle strade del Friuli occidentale hanno elevato diverse sanzioni per guida in stato d'ebrezza, mancato utilizzo della cintura e uso del cellulare alla guida, affermato anche un egiziano che non aveva mai conseguito la patente. Nello scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Pordenone hanno intensificato i controlli sulle strade del Friuli occidentale, registrando diverse violazioni in materia di codice della strada, in particolare omissione nell'uso della cintura di sicurezza e utilizzo del telefono cellulare alla guida, oltre a sorpassi in corrispondenza di divieti, mancate revisioni ai veicoli e guida senza patente. Le sanzioni maggiori però riguardano la guida in stato d'ebrezza. I militari della sezione radiomobile negli specifici servizi hanno controllato 140 utenti della strada e 120 veicoli, rilevando e contestando 8 infrazioni amministrative. Nello specifico, un giovane originario della costa d'Avorio, residente in provincia, è stato fermato a Pordenone ed è risultato positivo al controllo con etilometro, con un tasso compreso tra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro. L'infrazione gli è costata il ritiro immediato della patente, oltre alla sanzione amministrativa. Più grave è l'infrazione commessa da un cinquantenne pordenonese, che domenica notte, verso le 4, a bordo di un SUV, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulla carreggiata opposta, finendo per andare a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica e un'auto in sosta che è stata sbalzata contro un muro di cinta di un'abitazione adiecente. Anche in questo caso il conducente, che ha riportato ferite lievi, è risultato positivo alla prova con etilometro, riportando un tasso tra gli 0,8 e 1,5 grammi per litro. I carabinieri hanno bloccato anche un cittadino egiziano, residente in provincia, alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente. Torniamo a Udine. Nella serata di ieri i carabinieri hanno eseguito un controllo in alcuni locali di Borgostazione. È stato denunciato un cittadino pakistano perché all'interno del call center che gestisce è stata accertata la presenza di un lavoratore straniero irregolare sul territorio nazionale. È denunciato l'esercente di un locale per la presenza del bar di una lavoratrice nero con sospensione dell'attività imprenditoriale. Sanzionato un cittadino serbo, gestore di una pizzeria, poiché non ha ottemperato rispetto delle norme igienico, sanitarie. Sono state elevate sanzioni amministrative per irregolarità igienico-sanitarie e di sicurezza per un importo di 13 mila euro. Sono state denunciate poi 4 persone per guida in stato di ebrezza alla cittadina bulgara per violazione del divieto di ritorno nel comune di Udine. Un grave infortunio domestico si è verificato intorno alle 4 di questa mattina a Vermidiano del comune di Ronchi delle Gionari. Per causa in corso di accertamento una donna di 90 anni rimasta gravemente ostionata a seguito dell'esplosione di uno scaldabagno installato in un'abitazione adiacente soccorsa del personale sanitario e è stata ritrasportata all'ospedale di Trieste in gravi condizioni. Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri a Timau nel comune di Paluzza. A dare l'allarme sono stati i vigilini di casa che hanno visto levarsi le prime colore di fumo e delle fiamme. A prendere fuoco un vecchio stavolo di proprietà di una donna residente all'estero, stavolo già in stato di abbandono e che doveva essere demolito. Gli abitanti del posto hanno dato subito l'allarme chiamando il 112. Hanno utilizzato degli estintori per cercare di contenere il rogo sul posto. Poi sono intervenuti immediatamente i vigilifuoco degli staccamenti di Tormezzo che hanno lavorato per estinguere le fiamme e poi per smassare il materiale combusto nel vecchio stavolo. Era stoccato del fieno da molti anni ed era molto secco. Per questo motivo l'incendio si è esteso rapidamente danneggiando gravemente la struttura. Nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso di accertamento. E sono ripartite all'alba di oggi le ricerche da parte dei vigilifuoco, del comando di Gorizia e delle altre forze dell'ordine per cercare di rintracciare Roberto Volo, l'uomo di farra di Sonto di 63 anni che manca da casa dal 24 febbraio scorso. A dare l'allarme erano stati i parenti che non l'avevano visto rientrare in abitazione. I vigilifuoco hanno allestito ieri un centro operativo alla base della salita del Monte Quarin a Cormons e l'infatti che è stata trovata ieri la sua vettura, una Fiat 500. Oggi la macchina dei soccorsi riprende e saranno monitorate tutte le aree del versante del Monte Quarin nelle zone emitrofe da parte non solamente dei pompieri ma anche dei carabinieri, delle unità cinofili, dei volontari di protezione civile e delle squadre comunali locali. Che informazioni? Deve chiamare subito il 112. L'uomo normalmente indossa abiti sportivi, giubbotti e jeans, indossa un orecchino e è alto circa 1,75 m di corporatura snella. La discarica di Pecol dei Lupi a Cormons va chiusa nel minor tempo possibile con il miglior metodo secondo Isontina Ambiente che ha in gestione del sito l'utilizzo di secco residuo non solo il metodo più efficace ma anche quello veloce con minor impatto oltre che produrre un risparmio. Pecol dei Lupi necessario chiudere la discarica nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile. Come state procedendo? Certo, la discarica di Pecol dei Lupi va chiusa come da indirizzo dei nostri sindaci, dei nostri soci nel più breve tempo possibile. Ecco che allora, diciamo, recependo questo indirizzo ci stiamo muovendo con una soluzione tecnica che è un po' diversa rispetto a quella che abbiamo presentato nel 2015 quando, diciamo, si prevedeva di chiudere la discarica senza alcun apporto di rifiuti. Quell'idea, quell'ipotesi progettuale che non è mai diventata autorizzazione integrata ambientale ma è stata soggettata comunque ad una procedura di screening ha evidenziato delle, diciamo, delle criticità. In particolare il fatto che per colmare il volume residuo senza apporto di rifiuti si dovesse movimentare una grossa quantità di rifiuti, circa 30.000 metri cubi, con dei potenziali rischi di impatti odorigeni e di impatti, diciamo, di emissioni di polveri e di odori. Oltre al fatto che il profilo finale della discarica doveva essere rivisto, quindi abbassato, addolcendo le pendenze con il rischio che, appunto, ci fossero il ristagno di acqua e dei cedimenti differenziali. Facendo tesoro, quindi, di questi, di questi, diciamo, consigli, suggerimenti, quindi prescrizioni che erano emerse durante quella procedura di screening e tenendo conto che, appunto, la richiesta è di chiuderla nel più breve tempo possibile con il minore impatto ambientale possibile, abbiamo immaginato di, diciamo, modificare quella che è quella soluzione del 2015 andando verso un'ipotesi che, dal punto di vista tecnico, ci sembra essere la più logica e sostenibile, ovvero, diciamo, utilizzare per colmare il volume residuo quelli che sono i rifiuti del nostro territorio, in particolare il rifiuto secco residuo che proviene da una raccolta differenziata che oramai sfiora il 70%, quindi è un rifiuto, appunto, secco nel vero senso della parola e quindi a basso impatto ambientale. Questa soluzione ci consente di avere tempi certi perché il conferimento non dipende da determinate condizioni climatiche come nell'altra soluzione che invece richiedeva che la temperatura non fosse mai superiore ai 15 gradi e non ci fossero condizioni di vento. Teniamo conto che nel 2019 per ben 173 giorni si sono verificate queste condizioni e quindi questo avrebbe impedito l'effettuazione di queste lavorazioni in discarica. Conferire il rifiuto secco residuo invece consente di lavorare con continuità e quindi di raggiungere l'obiettivo finale in tempi certi, previsti in circa 18 mesi, con un rifiuto noto del nostro territorio genuino, tra virgolette, che è un rifiuto che quindi conosciamo e che non viene utilizzato per quella che è la vocazione originaria del sito, quindi accogliere rifiuto con un peso specifico e quindi con delle caratteristiche chimico-fisiche ben note, lasciando poi inalterato quello che è il profilo finale che consente quindi il ruscellamento delle acque che è la funzione principe di una baulatura e consentendo anche una copertura finale ben più performante rispetto a quella originaria perché è una diciamo copertura che prevede l'utilizzo di materiali innovativi. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea per approfondire quelli che sono i temi del giorno. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie.